Ciao a tutti ragazzi sono AndiAutXD e oggi Bene rieccoci qua Allora non è un gioco stavolta è un'applicazione che vi toglie la memoria nel telefono E' molto utile devo dire e funziona veramente Allora scriviamo Clean Air Master O Clean non mi ricordo Clean Master forse Sì Clean Master Eccolo qua il primo Allora questo qui è gratis quindi nel sito non vi metterò il link da scaricare Ma vi metterò direttamente il link del Play Store perché tanto è gratis E non c'è niente da moddare o cose del genere Allora possiamo entrare nell'applicazione E vediamo subito com'è strutturata Allora Scusate se va lento è perché sto facendo anche il video Allora come prima cosa si può potenziare il dispositivo Vedete tutte queste applicazioni sono quelle che ci sono aperte Io adesso seleziono tutto Così evitiamo di Ci sono Allora mettiamo questo Questo No questo no Questo si E questo Anzi no E Ci sono A varie applicazioni che hanno 493 MB Che occupano lo spazio E noi l'abbiamo chiusi tutti Poi Clean potenza dispositivo si può Creare una cartella Si può creare una cartella sul desktop Che praticamente quando clicchi sul gioco che hai scelto Ti chiude tutte le applicazioni di prima di farlo partire E dovrebbe andare un pochino meglio Dovrebbe Io non lo uso mai perché non ne ho bisogno Il mio telefono è già abbastanza veloce E Niente Allora Su file inutili File inutili Vi calcola naturalmente prima Quanti file inutili avete Io l'ho già fatto oggi se non sbaglio Mi ha tolto circa 900 MB di file inutili Vedete piano piano aumenta Cerca tutto E qui in questo caso solo questa roba Perché avevo Avevo già tolta oggi Adesso aspettiamo E voilà Finito Se noi andiamo su avanzato in alto a destra Troveremo Guardate quanta roba Sono giga Ci sono 5 giga Come eliminare tutta sta cacca Allora Io seleziono questo che tanto non mi serve Anteprima si può eliminare Non vi elimina le foto Vi elimina l'anteprima Maps Che tanto poi si ricreano da soli I file Second warfare Che tanto Ho già fatto il video prima di questo E Boh Eliminiamo Non ho eliminato tanto ma Sicuramente L'ha pulito Io Ragazzi ve lo consiglio Io ce l'ho da un bel po' E E serve Qua vediamo Quale virus C'ho Oh ne ha trovato uno Cronologia browser Pulisci Non c'è problema Ragazzi l'antivirus Anche è buono E ottimo Solo che non è in automatico Quindi Dovete andare voi Sull'applicazione Cliccare su antivirus E vedere se Ci sono virus Ok Ecco qua Ho creato la cartella Adesso vi faccio vedere Semplicemente Un gioco Che adesso non sto a giocare Oddio Quanta roba Mo mi ha creato anche altre pagine E te pare Allora Togliamo tutta sta roba Perché E' troppa Molto bene Come vedete qua Ha creato Le cartelle Voi Cliccate E Vi Vi chiude tutte le applicazioni Siete dentro il gioco Ve le chiude Quindi Molto utile E anche Abbastanza Velocizza il gioco Diciamo perché alla fine Usi Meno RAM Meno memoria Quindi ragazzi Questo era Cleaner Cleaner Buster Master Scusate E Se vi piace Andate sul mio sito Lo scaricate tramite Play Store Tanto è gratis E ragazzi Ci vediamo al prossimo Video